Buongiorno, ben trovati appuntamenti. Buongiorno, ben trovati appuntamento con Mattino Sela, nostra consueta rassegna stampa, giovedì 8 marzo 2018, apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, partiamo dal centro, dall'edizione di Pescara, il titolo principale riguarda il traffico, la circolazione stradale in città perché ormai è ufficiale, Corso Vittorio Emanuele torna il doppio senso, il sindaco cede ai commercianti e l'assessore civitarese annuncia le dimissioni. Dunque si profila una nuova grana per la giunta Alessandrini con le possibili e probabili dimissioni dell'assessore civitarese. E poi andiamo più in basso a centro pagina, vedete la foto notizia con la scomparsa di un ragazzo di 28 anni a Spoltore, ieri è stata trovata l'auto in centro a Pescara, è stato attivato il piano provinciale di ricerca. E poi le cronache, delitto della pittrice Renata Rapposelli, il figlio cercò di avvelenarla, questa la rivelazione della sorella. E poi ancora più in basso, Camera di Commercio Pescara Chieti inizia l'era Angelucci, è stato eletto ieri per acclamazione il nuovo presidente della Camera di Commercio Pescara Chieti che prende il posto di Daniele Becci che era scomparso due mesi fa. Andiamo ancora avanti, siamo a Penne, giro di vite del comune, più controlli sugli immigrati. E oggi 8 marzo è anche la festa della donna, il centro parla di questa celebrazione con un'intervista alla scrittrice premio Campiello 2017 Donatella di Pietrantonio che dice oggi le donne rischiano di più. Vedete l'intervista qui, la prima pagina del centro con l'articolo poi all'interno del giornale. Andiamo in alto perché si parla anche di politica e ci mancherebbe in questi giorni a poche ore dal risultato ufficiale delle elezioni con i 5 Stelle che hanno ottenuto un grande risultato sia nel Paese ma anche in Abruzzo. Ieri c'è stata una conferenza stampa dei vertici regionali che hanno chiesto, vedete questo articolo in alto, questo richiamo dell'articolo poi sempre all'interno del giornale, hanno chiesto al presidente D'Alfonso di dimettersi e la risposta di D'Alfonso è stata Resto fino a quando la legge me lo consentirà, fino a quando non ci sarà la proclamazione degli eletti a Camera e Senato e D'Alfonso è stato eletto in Senato e dunque si attende però la proclamazione ufficiale. Sempre la politica, Renzi si dimette, il PD litiga sull'accordo con Di Maio, questa notizia che riguarda indirettamente ovviamente anche il PD abruzzese e poi lo sport, vedete di fianco, impresa della Juventus a Wembley, battuto il Tottenham per 2-1, va avanti, prosegue l'avventura dei bianconeri in Champions League. Andiamo a vedere la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto del centro, Angelucci alla guida delle imprese, abbiamo visto anche il titolo dell'edizione di Pescara, è stato l'imprenditore pescarese, è stato eletto presidente, lavoriamo per Chieti e Pescara, ha detto. E poi siamo a Chieti, nonna morta, il nipote in tasca, la pensione, poi Vasto, cocaina dal Lazio e caccia al grossista, e poi Teramo, pittrice uccisa Giulianova, per meglio dire, il figlio voleva avvelenarla. Andiamo a vedere anche la pagina del centro di Teramo, Simone tentò di avvelenare mamma, omicidio della pittrice, la figlia accusa il fratello, mise del topicida nella minestra, queste le parole della donna riportate in questo titolo del centro. Poi andiamo a centro pagina, invece, centro trasfusionale dell'ospedale Mazzini di Teramo, allarme sangue, serve il doppio dei donatori. E poi di spalla le cronache, sequestrati nove distributori, maxifrode fiscale con i carburanti. E poi, iniziato il processo a Silvi, perizia balistica per l'attentato, Giulianova, Palazzo Gavioli, il PM, chiede tre condanne. Andiamo a vedere anche l'edizione di L'Aquila-Avezzano sul Mona del centro. Fare centro in testa i ristoratori all'Aquila, presentata la seconda graduatoria del bando regionale per le attività. E da L'Aquila ci spostiamo ad Avezzano, De Angelis, il sindaco, si dimette per trattare, vedete la foto del primo cittadino, e poi ancora, tornando all'Aquila, avvocato del comune citalente in giudizio. Restando nel capoluogo di regione, fascicolo sparito all'Aquila, processo rinviato, a Sulmona calcinacci a scuola, protesta dei genitori. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero. Ora lasciate governare noi, i Cinque Stelle chiedono l'azzeramento dei vertici della regione e degli altri enti collegati. Il governatore D'Alfonso risponde, pronto un dossier di 360 pagine per chi prenderà il mio posto. E poi Avezzano, il sindaco, vedete, conferma le dimissioni, il titolo in grigio di fianco. E poi la frode, evasione milionaria, restata una coppia. E poi ancora, a centro pagina, i santoleri traditi da una microspia. Giulianova, pittrice uccisa, la cimice nell'auto dei carabinieri. E poi a Pescara, corso vittorio, dal lunedì torna il doppio senso. Il sindaco annuncia la nuova viabilità, rimane il divieto nella giornata di domenica. E poi, in alto, altre notizie che riguardano la nostra regione. Teramo, pediatra ucciso dalla legionella, albergatore sotto accuse. Poi Chieti, teatino a giudizio per gli abusi sessuali su due sorelline. Poi il calcio, la serie B, parla Campagnaro che spinge il Pescara in alto, più organizzazione. E difesa, dice il difensore. Andiamo a vedere anche, per chiudere con le prime pagine, quella del quotidiano. La città provò ad avvelenare mamma, doppio movente economico e familiare per il delitto della pittrice. Parla la sorella di Simone Santoleri, vedete il titolo. E poi, a centropagina, l'onorevole Berardini accende la corsa al candidato sindaco. Siamo a Teramo, tanti i possibili e probabili candidati per il dopo Brucchi. E poi, in basso, la cronaca, sequestrate tre pompe bianche, evasione da 120 milioni di euro, scoperta dalla Guardia di Finanza. E poi, altre notizie. Giulianova per il PM Palazzo Gavioli va confiscato e poi va a processo per la legionella nel residence. E lo seto degli Abruzzi, più controlli alla villa dopo l'aggressione. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi con il quotidiano La Città. Poi torneremo tra poco a vedere le pagine interne dei giornali locali. Ora siamo all'edicola nazionale. Ovviamente, molte delle tematiche principali riguardano la politica. Iniziamo con il Corriere della Sera. Governo no del PD al Movimento 5 Stelle. Orlando, il 90% contrario al patto. Renzi lascia Martina alla guida del partito, il ministro uscente delle politiche agricole. E poi, Londra, usato gas nervino per tentare di uccidere l'ex 007 russo Skripal. Le spie, il cremilino e il veleno. La vedova di Litvenko accusa. E poi, in alto, vedete anche sul Corriere della Sera, c'è il richiamo alla Champions League, all'impresa della Juventus, cuore e rimonta, battuto in trasferta a Wembley, il Tottenham. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica. I Dem chiudono al Movimento 5 Stelle, stesso titolo del Corriere della Sera. Prodi, il PD non è finito. Renzi consegna la lettera di dimissioni. Destra, Salvini lancia l'OPA su Forza Italia. La strategia di Mattarella, in carico solo a chi garantisce di avere una maggioranza. E poi, oggi, 8 marzo, festa della donna. Vedete questa immagine, questa foto. Asia Argento e Rose McGowan. Donne, fermiamo i demoni. E poi, il Fatto Quotidiano. Quote Rosatellum, un senatore in meno e neppure un terzo di donne. Palazzo Madama perde un seggio. Questo è il titolo principale del Fatto Quotidiano. Il Messaggero, la prima pagina nazionale. Camere e prove di patto Movimento 5 Stelle. Lega, questo è il titolo di apertura. Sul tavolo l'ipotesi di Calderorio Romani alla Presidenza del Senato. Edifico alla Camera. No del PD all'Alleanza con Di Maio. Renzi si è dimesso. Il Colle, nessuna soluzione favorita sull'altra. E poi, 8 marzo d'orgoglio per le donne soldato. A 20 anni la decisione di aprire le forze armate a personale femminile. E poi, Vivendi Mediaset. Questo accordo non ha alternative. Si parla dell'accordo tra i due colossi. E poi, in alto, vedete, c'è un richiamo di sport. In questo caso non di Champions League, ma di Europa League. Sul quotidiano romano si parla della Lazio. Che all'Olimpico affronta la Dinamo Kiev. Inzaghi con la coppia immobile Anderson. Vediamo anche la prima pagina di Libero. Tutti sul carroccio del nuovo vincitore. Il carroccio che sta per Lega. La corsa per dare una mano alla più forte. E poi, la storia del leghista Iwobi. Il primo senatore nero. E Lombard, l'unico segretario politico non razzista. Vediamo anche il mattino di Napoli. Camere via alle grandi manovre. Prove di dialogo. Movimento 5 Stelle lega sulle presidenze. Ma il caccio ai voti tra PD delusi. e Grillini espulsi. E poi, il caso. Vedete questo articolo di spalla. Paolo VI e Romero, i due santi dell'anti-retorica. Infatti Papa Francesco ha annunciato che Papa Paolo VI, il pontefice bresciano, Giovanni Battista Montini e Oscar Romero, l'arcivescovo del Salvador, ucciso dalla dittatura militare del suo paese, saranno proclamati santi probabilmente nella stessa cerimonia. E poi, vedete più in basso, le inchieste del mattino, la svolta della Fiat, meno Italia, più lusso. E siamo al manifesto, la balena gialla, vedete la foto del premier in pectere del Movimento 5 Stelle di Maio, con questo risultato sicuramente oltre le più rose aspettative ottenuto dal Movimento 5 Stelle. Poi in alto c'è questo articolo, la tempesta delle donne. Oggi è l'8 marzo, la festa della donna. E sul sole 24 ore si parla della tregua che arriva dall'Unione Europea sul DEF, l'altola e sulle riforme. Vediamo anche il tempo, altro quotidiano romano, processo a forza Italia, il flop azzurro, liste, legge elettorale, comunicazione politica sui territori, la carta a Tajani, e poi il cerchio magico, ecco cosa non ha funzionato nelle lettere al tempo, dei dirigenti. E poi la stampa, conti italiani, rischio contagio nell'Unione Europea, questo è il titolo di apertura del quotidiano torinese. Allarme dell'Europa dopo il voto, Lega e Movimento 5 Stelle, non accettiamo lezioni, Padoan lavora, già al DEF. E poi vedete, l'ultima rivoluzione delle donne in festa, uno sciopero per celebrare l'8 marzo nell'anno delle mobilitazioni contro le molestie per la parità. Oggi giornata difficile sul fronte dei trasporti per lo sciopero generale, proprio che coinvolge un po' tutte le città italiane. Siamo al giornale, le trame di Mattarella, il Presidente vuole tagliare fuori il centro-destra con un governo Movimento 5 Stelle e PD. Berlusconi lavora da mediatore per sbloccare l'impasse che si sta creando dopo queste elezioni. La verità, il piano per tradire il voto, poteri forti in azione, 5 Stelle e Secrati, fino a ieri, sono diventati beniamini dell'establishment che spinge perché formino un governo con il PD. Di Maio viene ritenuto più manovrabile di Salvini da chi vuole tutelare il sistema, scrive il quotidiano. La verità, siamo al secolo d'Italia, Movimento 5 Stelle e PD, due sinistre, il quotidiano della destra e siamo invece al giornale di Genova, il secolo XIX, Salvini, mi cercano in tanti, dice il leader della Lega, debito italiano, allarme dell'Unione Europea, rischio contagio, DEF, Padoan, a caccia di voti. E dunque, si continua a lavorare per il nuovo governo, siamo ad avvenire, l'Unione Europea resta in allarme per debito e pensioni, la Commissione lascia l'Italia tra gli osservati speciali, progressi insufficienti, ancora squilibri macroeconomici, eccessivi. E poi vedete in alto il titolo che abbiamo trovato anche prima sul mattino di Napoli, Paolo VI, il Vescovo Romero, Santi del Coraggio e della Vita, il Papa ha promulgato i decreti che riconoscono i miracoli, via libera, alle due canonizzazioni che potrebbero esserci in una unica cerimonia. Lasciamo l'avvenire, ultimo quotidiano che abbiamo preso in esame, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, torniamo alle vicende abruzzesi, siamo al centro, a pagina 2, già corsa alla Regione, in Abruzzo, vedete il titolo principale, l'Abruzzo vuole tornare a votare, Marcozzi ad Alfonso, ai meno del 14%, devi dimetterti subito, ha detto ieri, più tardi vedremo anche il servizio, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle. E poi così il Movimento celebra la vittoria, via le feste sobrie, con pizzette e birra, gli altri partiti, vedete più in basso, Bella Chioma, Bagnai, Deramo, la squadra abruzzese a Roma, la squadra abruzzese della Lega, tra l'altro questa mattina, i neo eletti, a Camera e Senato della Lega, incontreranno la stampa, a Pescara. D'Alfonso, no, io resto fino all'ultimo giorno, questa è la risposta, del Governatore della Regione, alla richiesta di dimissioni, avanzata dal Movimento 5 Stelle, più avanti, ascolteremo anche, le dichiarazioni del Presidente della Regione. Poi in basso il bilancio di altri partiti e altri movimenti che non hanno ottenuto dei grandissimi risultati, il Popolo della Famiglia, risposta superiore alle aspettative, dice Giovanni Marco Tullio, una forza cattolica è più necessaria di ieri, e poi il candidato di Europa più, Nico Di Florio, che ringrazia gli elettori, un dato interessante, ma non sufficiente. ripartiamo da qui. Le elette in Abruzzo, l'8 marzo, quando a festeggiare sono le donne della politica, in Parlamento, l'avvocatessa animalista, la senatrice uscente, la musicista, l'informatica, l'impiegata nel settore trasporti, si parla delle donne che sono state elette in Abruzzo per Camera e Senato, sono Carmela Grippa, del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto, anche lei pentastellata, come Valentina Corneli, e poi Stefania Pezzopane, del PD, Gabriella Di Girolamo, unite contro la violenza, i diritti da difendere, parla anche l'assessore regionale, alle politiche sociali, Marinella Sclocco. Dopo il voto, Renzi si è dimesso, restiamo a parlare di politica, lettera formale al Partito Democratico, lo ha rivelato Orfini, il presidente del partito, assemblea entro un mese, ora alla guida, c'è il vice Martina, che è il ministro uscente delle politiche agricole, calenda contro l'accordo con il Movimento 5 Stelle. In basso, Di Maio, siamo proprio ai pentastellati, studia una exit strategy, fase di stallo, ipotesi di asse con la Lega, per una nuova legge elettorale, se non dovesse esserci un accordo con il PD, quindi il Movimento 5 Stelle proverà a trovare un accordo con la Lega e Salvini a tal proposito dice, pronti a parlare con tutti, non vogliamo inciuci, con Renzi. 8 marzo, la festa della donna, aumentate le violenze, la denuncia delle donne. Andiamo avanti, per arrivare alle pagine di cronaca regionale, economia del mare e sviluppo, Portona, il no al dragaggio, blocca la crescita del porto, la regione cerca un sito alternativo all'area marina individuata dall'ISPRA, ma rischia di tardare il via alla zona economica speciale. Oggi si terrà tal proposito una conferenza di servizi. E poi in basso, Vinitali, Montepulciano sul podio, il vino abruzzese terzo in Italia, tra i più venduti nella grande distribuzione. E siamo alle cronache provinciali, partiamo da Pescara, sparisce a 28 anni l'auto trovata in centro da lunedì pomeriggio. Non si hanno notizie di Alessandro Neri, figlio di una famiglia di imprenditori Itano-Venezuelani. L'appello della madre, se l'avete visto, per favore mandate un messaggio. Il giovane indossa una vistosa collana d'oro al collo. È stato attivato il protocollo provinciale quando ci sono denunce di scomparsa. E poi restiamo a Pescara. Di fatto, si parla dei progetti per il traffico Corso-Vittorio. Tornano le auto a doppio senso. Alessandrina annuncia la riapertura della strada. Esultano i negozianti, sconfessati i piani di Civitarese. E l'assessore annuncia le dimissioni. Vedremo che cosa accadrà oggi. E intanto, negozianti in rivolta anche a Porta Nuova, raccolta di firme in via Conte di Ruvo, nuova pista ciclabile, sì ai parcheggi. E dopo il voto parla il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Vado avanti, nonostante il crollo del PD, ha detto il primo cittadino, il sindaco in consiglio, nessun effetto dei risultati elettorali sulla mia giunta. Sabatini del Movimento 5 Stelle replica il centro-sinistra e come il telegrafo nell'era di internet. E poi si parla di inclusione e lavoro. Nell'articolo più in basso, in comune i colloqui con 154 candidati. Siamo alla pagina 21 della cronaca di Pescara, AIRC, 100 docenti e dirigenti scolastici a lezione anti-cancro. L'alberghiero è il primo istituto abruzzese selezionato per insegnare nelle classi come si prevengono i tumori. E poi siamo più a centro pagina, brusca frenata del bus, passeggera ferita al volto, colpita dalla busta piena di un altro utente. Poi auto in fiamme e colli innamorati nell'altra notte, la notte scorsa a Pescara. E poi Ilaria Cucchi, oggi ospite di due scuole, donna dell'anno 2017, sarà al Galilei e poi all'alberghiero, la preside di Pietro, testimonianza di legalità e giustizia. Tante le iniziative oggi per festeggiare proprio l'8 marzo e sempre oggi alle 18 in Piazza Italia torna il camper della polizia contro la violenza di genere. Altra iniziativa da sottolineare. Da Pescara ci spostiamo a Montesilvano, Paladin Martin, cinque giorni per le offerte di gestione. Scade il 12 marzo il bando pubblico, l'avviso comunale per la condivisione del centro congressuale e sollecitati imprenditori e associazioni a presentare proposte innovative. E poi operazione dei carabinieri, furti, truffe e spaccio di droga, un arresto e dieci denunce. E poi in basto tabacchiera le maschere italiane a Boston, il ballerino coreografo Montesilvanese negli USA con uno spettacolo di teatro, di danza sul Carnevale. Siamo ancora nell'area metropolitana di Pescara, la corsa per le regionali. Parla il sindaco di Francavilla Luciani che dice sono un argine al populismo. Il sindaco rilancia l'ipotesi di una sua candidatura in attesa delle dimissioni del governatore D'Alfonso. E sempre a Francavilla la Tari aumenterà di 90 mila euro l'anno. A Libertini l'assessore comunale dice le tariffe erano ferme. Dal 2011 a San Giovanni Teatino ad aprile tre corsi di formazione digitale per tutti in basso tornando a Francavilla poste al cione vincono le donne nove addette allo sportello ed è il record in tutta la provincia. E poi mai alle storie d'Abruzzo San Giovanni Teatino una domenica di teatro e solidarietà. Proseguiamo ci spostiamo nel pescarese nell'area vestina dell'Alta Val Pescara partiamo da Penne comune giro di vite sugli immigrati l'amministrazione punta ad assumere un maggiore controllo sui rifugiati convertendo i centri accoglienza in sprar e poi bussi di scarica dei veleni approvate le analisi e poi in basso all'anno un aiuto per ogni bimbo nato SOS della consigliera fattore sul calo demografico e sullo spopolamento che investe tanti centri anche in provincia di Pescara siamo a Chieti ieri c'è stata l'incoronazione del nuovo presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara vedete eletto il nuovo presidente inizia l'era Angelucci l'economia riparte e c'è stato il ricordo per Daniele Beci l'ex presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara scomparso nei mesi scorsi la grande unione voluta da Beci vedete questo titolo di spalla a ricordare l'ex presidente che tanto aveva lavorato per la fusione delle due Camere di Commercio e Confindustria vedete l'articolo nella parte bassa della pagina punta la svolta tecnologica lezione di Pucsic ad una platea di 80 imprenditori Pagliuca vogliamo eliminare dice i metodi burocratici andiamo avanti siamo alla pagina di Ortona Fossa Cesia San Vito e Tollo dunque della provincia di Chieti il comune mette in vendita appartamenti e magazzini a Dortona sempre a Dortona di Sipio non ai gettoni fondi per le donne Tollo un ente per le imprese in crisi San Vito Chietino scontro sui lavori all'ex municipio andiamo avanti siamo arrivati alla pagina di Teramo l'opinicidio della pittirice se ne parla tanto se ne è parlato tanto nelle ultime ore perché ci sono state grosse novità mio fratello ha cercato di avvelenarla nell'ordinanza di arresto di Giuseppe Simone Santoleri il racconto dell'altra figlia ha messo ha detto la donna del topicida nella minestra secondo gli investigatori sarebbe stato simulato anche il tentato suicidio dell'ex marito e vedete questa pagina praticamente dedicata a questa vicenda che nelle ultime ore ha avuto una svolta siamo a Silvi attentato di Silvi chiesta la perizia balistica al via il processo ai due accusati del tentato omicidio del direttore della motorizzazione di Chieti siamo alla pagina della provincia di Teramo max rifrode fiscale sui carburanti sequestrati nove distributori e poi Ateneo ricercatore terramano va all'università israeliana di Tel Aviv e poi a centro pagina lo snals per la scuola di momenti irrisori il sindacato autonomo annuncia battaglia con il nuovo contratto condizioni peggiori per tutti poi domenica prossima a Campli in programma il terzo raduno di Quad e fuoristrada proseguiamo siamo ad Atri il comune anticipa i soldi per i lavori alla scuola elementare lo ha detto il sindaco Astolfi e poi Silvi tentano di rubare portafogli al supermarket sempre Silvi campo sportivo quasi impraticabile pozzanghele sul terreno di gioco illuminazione carente manca l'acqua calda negli spogliatoi infine in basso a Pineto area marina protetta del Cerrano attestati a 30 operatori turistici siamo a Roseto la tassa di soggiorno vale 510.000 euro e l'incasso stimato dal comune nel bilancio di previsione appena approvato 285.000 euro dalla sosta a pagamento strisce blu divieto di sosta notturno su un tratto della Nazionale e piazza primo maggio sempre a Roseto ma passando alla cronaca ladri assaltano tre sale slot a vuoto i colpi dei malviventi siamo alla pagina dell'Aquila fare centro oltre 400 domande la ristorazione la più richiesta presentata dal vice presidente della regione Giovanni Lolli Rivera è da Biondi la seconda graduatoria linea B di finanziamenti alle attività il vice presidente dice non pensavamo ad una risposta così importante e poi dicono fuga dalla città e dall'Aquila ad Avezzano perché si dimette il sindaco De Angelis in vista delle trattative sia i confronti dice per una nuova maggioranza ma non nei bar e siamo alla pagina dell'Aquila e della provincia appalti milionari all'Aquila fascicolo sparito salta udienza in tribunale e poi dirigente comunale cita lente in giudizio De Nardis reclama 20 mila euro e poi in basso Viale Croce Rossa sempre all'Aquila proteste dopo la tragedia una residente incidenti inevitabili in una strada trafficata senza illuminazione e strisce Pedonali siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere insieme ancora le pagine interne del messaggero del quotidiano la città lo faremo dopo una breve pausa di nuovo in studio seconda parte di mattino 6 siamo all'inserto Abruzzo del messaggero la pagina una delle pagine che riguarda la politica il post elezioni vedete il titolo che riguarda il Movimento 5 Stelle regioni edenti vanno azzerati lasciate governare noi taglia la sanità fondi europei conti non in ordine le criticità lo ha detto ieri la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi che ha chiesto le dimissioni immediate del presidente del regione allora possiamo andare a vedere proprio il servizio relativo alla conferenza stampa dei pentastellati ieri a Pescara dimissioni immediate del presidente Luciano D'Alfonso a cui è stata imputata una incapacità di governo che ha poi prodotto anche il deludente risultato elettorale del PD e parola ai cittadini abruzzesi con la possibilità di tornare il più presto possibile alle urne il Movimento 5 Stelle dopo l'esaltante risultato delle elezioni del 4 marzo non fa sconti al governo regionale accusato di aver pensato soprattutto a tagliare i servizi le dimissioni del presidente D'Alfonso le hanno chieste i cittadini abruzzesi dandogli una fiducia che raggiunge a malapena il 14% il presidente D'Alfonso sta attualmente tenendo in ostaggio la regione la tenuta in ostaggio durante la campagna elettorale per la propria carriera politica adesso che ha raggiunto l'obiettivo noi come cittadini prima di ogni altra cosa ma anche come consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle gli chiediamo di dimettersi immediatamente perché lo vogliono i cittadini abruzzesi e di fatto per manifesta incapacità a governare l'Abruzzo oggi scopriamo che il presidente D'Alfonso ha anche scoperto come dire il mandato che gli hanno conferito i cittadini abruzzesi per andare in senato e dunque dovrebbe rispettare questo mandato io mi domando dove risiede invece il mandato che i cittadini gli hanno dato a presiedere regione Abruzzo a governare regione Abruzzo il presidente D'Alfonso dice di fatto quello che più gli conviene ma i cittadini abruzzesi hanno detto un'altra cosa hanno bocciato il presidente D'Alfonso che ripeto non arriva al 14% come non arriva o meglio supera appena il 14% Forza Italia Forza Italia e il Partito Democratico insieme non fanno la forza del Movimento 5 Stelle un abruzzese su due quasi ha votato per il Movimento 5 Stelle noi siamo pronti a governare e lo faremo nell'interesse soltanto dei cittadini restiamo alla politica fratelli d'Italia all'attacco il Rosatellum dicono gli esponenti del partito ci ha scippato un seggio e poi nella parte bassa della pagina c'è la risposta in diretta del presidente della regione D'Alfonso anche alla richiesta di missioni avanzate l'abbiamo ascoltato dal Movimento 5 Stelle 360 pagine di consegni a chi mi subentrerà il presidente però resterà almeno per il momento a governare la regione in attesa della proclamazione ufficiale degli eletti al Senato noi andiamo ad ascoltare proprio le parole del governatore della regione fino al giorno della convalida dovrebbero sapere sia quelli che rispondono che quelli che chiedono l'ordinamento prevede che deve intervenire la convalida altrimenti non c'è la consistenza giuridica dell'eletto sto preparando un atto amministrativo che nella vita amministrativa ha il rango della delibera che consente di rintracciare quali sono gli elementi in corso e che meritano di essere assunti portati avanti e completati questo perché si apre mura e cura dell'ordinamento altrimenti diciamo assomiglia ad una condotta privata e non ad una condotta da responsabilità pubblica noi abbiamo da oggi fino alla data nella quale scatta l'inveramento della condizione giuridica dell'eletto in questo lasso di tempo l'ordinamento deve continuare a funzionare altrimenti assomiglia ad una cantina c'è un problema in Abruzzo nel centro sud e in Italia per esempio in Abruzzo si chiama 70.000 persone che non ci hanno rivotato dopo il 2013 su questo fronte noi dobbiamo costruire una proposta di un'offerta politica che li recuperi non solo dicendo le cose fatte ma anche immaginando per esempio io sono affascinato da questo tema del reddito di cittadinanza che è stato un grande tema assorbente che ha riempito di sé l'efficacia di una campagna elettorale e dichiaro che voterò a favore del reddito di cittadinanza perché mi sembra che su questo c'è stato un grande coinvolgimento di cittadinanza io sono contro un meccanismo inciucista che superi la distinzione tra chi ha vinto e chi ha perso io penso che debbano governare coloro i quali hanno vinto e queste elezioni politiche sono state vinte dai 5 stelle dai leghisti e ritengo che i cittadini abbiano stabilito chi deve governare così come hanno stabilito chi deve stare all'opposizione io ritengo una formidabile cura che poi in Italia quando si sta all'opposizione appena dopo si va al governo e quindi ritengo che l'opposizione faccia anche bene per ritrovare un pensiero radicale queste le parole di D'Alfonso siamo la cronaca di Pescara sempre dal messaggero Corso Vittorio riapre Civitarese chiude questo è il titolo che riguarda la decisione della giunta Alessandrini di riportare il doppio senso dell'importante arteria cittadina l'assessore assente Civitarese si è dimesso in serata riunione con Blasioli e poi progetto di Danelli per l'area di risulta la proposta di Confcommercio in basso Angelucci nuovo presidente della Camera di Commercio Pescara Chieti siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara pronto il progetto per via Saffi il conservatorio affida l'ampliamento alla facoltà di architettura e chiede fondi Montesilvano l'esempio delle poste con l'ufficio più femminile d'Abruzzo proseguiamo pagina dell'Aquila del messaggero progetto case un mutuo sociale per ottenere alloggi di proprietà vedete il titolo di apertura l'amministrazione pensa a questa opportunità per una quota del maxi convendio immobiliare e poi Deramo rompe il silenzio risultato storico il neodeputato parlerà dopo gli incontri ufficiali neodeputato della Lega qui abbiamo fuso nazionale e locale e poi politiche di sicurezza al centro dell'ottavo congresso del Siulpe poi Giancarlo Paris resta in carcere non sopportava più di vedere il fratello ubriacarsi mentre lui si sacrificava nel lavoro per poterlo aiutare leggiamo qui dalle pagine del messaggero ancora l'Aquila in centro 200 nuove attività presentata dalla regione dal comune questa iniziativa in tutto sono 401 le domande giudicate idonee dai tecnici e poi fuori pista la parola al Tarra l'esame due ricorsi contro il blocco totale sancito da ordinanze poi festa della donna teatro sciopero e mostra a Roma andiamo avanti ci spostiamo alla pagina di Avezzano e Sulmona De Angelis mi dimetto ma tra 20 giorni parla il primo cittadino della città marsicana ieri l'annuncio con la formalizzazione è già in mattinata ma con l'impegno a trattare con le altre forze politiche il primo cittadino ritiene inopportuno lasciare la città nelle mani di un commissario per un lungo tempo e poi marsica blitz della polizia stradale contro alcol e abusi Sulmona rifiuti decolla il porta a porta ancora Sulmona bretella progetto contestato sono 11 milioni buttati a Tagliacozzo 8 marzo super al teatro Taglia Roccaras uccise il fratello il 10 aprile al via il processo e poi ancora Vezzano in comune i casi cam e piazza del mercato siamo a Chieti vi faccio guidare l'auto così abusò di due sorelline l'uomo a giudizio corrito abbreviato la mamma delle vittime dice sia punito iniziative del comune per l'8 marzo anche a Chieti l'inchiesta la nonna muore lui intasca quattro pensioni a giudizio accusa di truffa per il nipote e non comunicò per oltre quattro anni il decesso a IMS e INAIL il piromane del centro torna in libertà ero arrabbiato e poi in basso condannato per le fotoscene alla ex amante e stalking pedinamenti e telefonate a raffica la vittima anche ritirato la querela ma il processo è andato avanti siamo alla pagina della provincia di Chieti partiamo da Lanciano da Lega e Movimento 5 Stelle un messaggio al sindaco Pupillo i due simboli non fanno parte dello scenario politico cittadino ma danno un segnale forte in virtù dell'impennata di consensi il sindaco dice nessun contraccolpo nell'amministrazione ma non li sottovaluto ora dimostrino di saper governare e poi ancora Lanciano giovani al lavoro studenti ed esperti al Rotary fugge e poi riesce a speronare anche un'auto dei carabinieri è accaduto a Agissi dove c'è stato un inseguimento e poi festa della donna tra lavoro eventi e centri antiviolenza oggi a Fossa Cesia nasce Demetra insieme con Donne di Ortona si parla di imprese poi all'istituto De Giorgio tante iniziative anche in provincia di Chiedi per l'8 marzo Ortona riaperto il museo della battaglia conclusi i lavori di manutenzione basto senza biglietti bloccano il treno per mezz'ora siamo alla pagina di Teramo del messaggero fuggi fuggi delle griff dal centro i commercianti togliere la ZTL questa è la richiesta degli esercenti del centro di Teramo Tortoreto legionella killer nel residence titolare del Playa alla sbarra e poi capo cantoniere Teramano Anas processo per le tangenti al via e poi ritrovati gioielli rubati nelle case in questura le foto del refurtiva in basso la scelta di Nadia sono mamma ma guido i bus poche le autiste ho vinto le diffidenze dei datori di lavoro e dei colleghi siamo alla pagina di Roseto Giuliano e Val Vibrata Giuseppe Santoleri tradito dal figlio basta che ti ricordi dove siamo stati le parole intercettate dai carabinieri tradiscono la ricostruzione del viaggio fatta dal papà leggiamo qui dalle colonne del messaggero i soldi della pensione e l'astio verso la mamma duplice il movente che emerge dall'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP Simone Violento oggi l'interrogatorio la difesa gli indizi dice l'avvocato dei Santoleri sono inconsistenti e l'avvocato anticipa anche le mosse potrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere in basso ancora Giulianova Palazzo Gavioli il PM confiscato le condannate dirigenti e costruttori e poi invece in Val Vibrata Tortoreto tassa di soggiorno Tortoreto ha detto sì arriviamo alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine interne del quotidiano la città prima di parlare di sport partiamo dalla cronaca regionale dalla politica resto in regione fino all'ultimo giorno utile Luciano D'Alfonso conferma che farà il senatore ma non prima di aver ricevuto la convalida abbiamo ascoltato poco fa le parole del presidente del regione in basso Sara Marcozzi il governatore dovrebbe abbandonare la politica anche in questo caso vi abbiamo proposto il servizio sulla conferenza stampa del Movimento 5 Stelle siamo al giallo della pittrice Simone provò ad avvelenare nostra madre parla la sorella del 44enne accusato di omicidio d'occultamento di cadavere insieme al padre e poi in basso aggressione al circolo privato l'appello conferma il tentato omicidio siamo a Teramo e ancora a Teramo Berardini spiazza tutti abbiamo un sindaco l'onorevole Pentastellato accelera i telempi della politica cittadina e costringe gli altri ad affrettarsi in basso sempre verso il voto Rasetti presenta la civica ricostruire Teramo farà parte dell'alleanza civica per Teramo lanciata nei giorni scorsi da empatia e poi in alto vedete a proposito di corsa alla carica di sindaco per Teramo alcuni dei possibili papabili candidati Tiziano Rocchetti e poi il presidente attuale della provincia di Teramo Renzo di Sabatino l'ex capogruppo del PD Gian Guido Dalberto e poi per il centrodestra Mauro Di Dalmazio e poi per i popolari Alberto Covelli tanti nomi vedremo come andrà a finire restiamo alla politica autocritica PD da Di Marco un renziano della prima ora dunque il tempo anche dell'autocritica all'interno del Partito Democratico siamo alla cronaca rubati a Teramo trovati a massa la polizia diffonde foto di gioielli sottratti nei furti negli appartamenti a dicembre e oggi a Teramo la scuola Noe Lucidi festeggia le donne proseguiamo siamo sempre a Teramo la cronaca la finanza sequestra tre pompe bianche e tre stazioni di servizio teramane coinvolte in una maxifrode sui carburanti da 120.000 euro andiamo ancora avanti si parla di formazione a Teramo l'accordo tra l'Università di Teramo e i Carabinieri il Rettore e il Vice Comandante Generale firmano la Convenzione per le Discipline Scientifiche di Interesse Comune e per quanto riguarda invece il Liceo Delfico di Teramo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella premia le studentesse del Coreutico proseguiamo siamo alla pagina della provincia le due provinciali passano alla gestione ANAS Gentiloni firma il decreto per la SP 259 e la 553 va meglio alle altre province abruzzese concussione all'ANAS iniziato ieri il processo al capo cantoniere siamo alla pagina della Val Vibrata Legionella titolare del Residence a processo per la morte di un 79enne che aveva soggiornato nella sua struttura e poi a Martinsicuro lezione in municipio sulla raccolta differenziata siamo alla pagina di Giulia Nuova le tappe della vicenda lo scheletro del palazzo fa ombra al Cursal da 8 anni e poi la vicenda di Palazzo Gavioli vedete il titolo chieste 3 condanne e 5 assoluzioni per l'abuso accanto al Cursal e sempre a Giulia Nuova ma cambiando argomento nuove opportunità per le imprese turistiche locali giornata informativa per presentare i bandi su digitalizzazione e destagionalizzazione proseguiamo bilancio comunale siamo a Roseto mezzo milione in arrivo dalla tassa turistica il comune li utilizzerà per rifare i marciapiedi sul lungomare Roma e per le manifestazioni estive ancora Roseto stasera i lavori per rimuovere le strisce blu sulla nazionale adriatica e in basso in due alla sbarra per l'agguato a Mario Nino Presutti direttore della motorizzazione di Chieti siamo ad Atri nessuna ditta vuole completare i lavori nelle elementari tornando invece a Roseto più controlli alla villa dopo l'aggressione ancora Roseto cronaca raffica di colpi e danni di bar e tabaccherie pagina della cultura tanta storia scritta con forza e grazia festa delle donne Iotti Gallico Spano Barelli Montessori simboli più che mai attuali siamo allo sport del quotidiano la città Sales fondamentali due match in casa il difensore Bianco Rosso fa il punto della situazione dopo la vittoria con il Padova e alla vigilia della prima di due gare interne consecutive per il Teramo che domenica sera giocherà con il Sant'Arcangelo nel turno successivo con l'Albinoleff il Teramo che pensa in positivo in vista della gara con i Romagnoli saranno disponibili per la gara con il Sant'Arcangelo Varas e Amadio che hanno scontato il turno di squalifica siamo allo sport del quotidiano il centro partiamo dalle pagine nazionali per parlare dell'impresa della Juventus che dopo il 2-2 dell'andata vince a Wembley per 2-1 sul Tottenham pensate dinanzi a 90.000 spettatori la Juve in tre minuti si prende Wembley i Wain e Dybala ribaltano il Tottenham bianconeri ai quarti di finale e poi in basso la crisi del Paris Saint-Germain oltre un miliardo in sei anni ma il Paris Saint-Germain in Europa è un flop anche Marco Verratti sotto processo dopo l'eliminazione aria di rifondazione ed il tecnico Emery andrà via andiamo avanti il Milan a caccia dell'impresa perché oggi tocca alle italiane di Europa League Rossoneri al Meazza contro l'Arsenal Lazio in cerottata sfida la Dinamo Kiev questa sera a Milano gara che inizierà alle 19 è previsto il tutto esaurito per Milan Arsenal con 70.000 spettatori in basso in migliaia per salutare Davide Astori ieri nel centro tecnico di Coverciano della FIGICI questa mattina si terranno nella Basilica di Santa Croce a Firenze i funerali di Davide Astori siamo alla pagina del Pescara Pescara che guarda alle prossime due sfide a distanza di pochi giorni i Biancazzurri che giocheranno sabato con il Parma e poi martedì con il recupero della gara con il Carpi in questa pagina c'è l'intervista a Bunino gol e sogni di gloria io immobile la Serie A ma in basso si parla della vicenda bilanci dei controlli del Tribunale delle imprese vedete il titolo bilanci c'è lo spettro dell'amministratore giudiziario dopo il ricorso di Annascogli e la relazione dell'ispettore nominato dal Tribunale si attende la data dell'udienza andiamo avanti ancora Pescara perché sabato il Parma ci sarà lo stadio di riatico il Parma di D'Aversa anche lui pescarese e per Epifani esordio in panchina sulla panchina del Pescara Epifani che dovrà fare a meno di Campagnaro che è infortunato siamo poi al Teramo Teramo è la difesa tre ecco il segreto della svolta con il cambio del sistema di gioco la squadra di Palladini è tornata alla vittoria e siamo al torneo delle regioni che è stato presentato ieri a Pescara c'era anche il presidente nazionale della Lega di Serie D Sibilia in Abruzzo i campioni del domani il presidente della LND tra Amarcord e politica federale ieri abbiamo seguito la presentazione proprio del torneo delle regioni andiamo a vedere il servizio curato da Andrea Costantini presidente Sibilia è un momento sempre bello quello della presentazione del torneo delle regioni perché si parla di giovani peraltro rappresentative maschile e femminile calcio a 5 calcio a 11 è un po' questo il serbatoio che va alimentato si è una grande manifestazione una manifestazione che coinvolgerà migliaia di persone circa 2000 tra atleti tecnici dirigenti ci avremo la possibilità per una settimana di essere al centro dell'attenzione come calcio dilettantistico e giovanile del paese abbiamo scelto di essere qui in Abruzzo col presidente Ortolano col consiglio direttivo del comitato di Abruzzo e ancora una volta crediamo di aver siamo certi di aver affidato il torneo nelle mani di persone capaci trofeo delle regioni del calcio la principale disciplina sportiva ovviamente del nostro paese che mette al centro l'Abruzzo per quanto riguarda questo sport dal punto di vista dilettantistico per una settimana 136 partite 36 campi coinvolti e quindi 36 città abruzzese oltre 1500 persone e atleti che verranno ad essere coinvolti e permettetemi un particolare ringraziamento al mondo dello sport abruzzese quando siamo arrivati avevano grosse difficoltà non c'erano rapporti istituzionali noi abbiamo rifinanziato abbiamo dato grande spolvero a degli eventi molto importanti delle diverse discipline sportive ed è dedicato ai tanti ragazzi alle tante ragazze alle famiglie ai dirigenti che con passione mobilitano un settore che ha una grande finalità sociale anche di salute se vogliamo e che in particolar modo rappresenta anche una vetrina per quanto riguarda il novelo delle iniziative per l'intera regione abbiamo più volte rimarcato questa situazione cioè che per ripartire il calcio italiano ha bisogno della base ha bisogno dei suoi giovani e quindi ha bisogno di ricostruire il mondo del calcio partendo appunto da questi tornei di calcio dilettante e giovanile solo così potremmo tornare ad essere riferimento in campo mondiale per il nostro paese come nazionale queste le parole del presidente della Lega Nazionale di Tanti Cosimo Sibiglia abbiamo ascoltato anche l'intervista con l'assessore regionale allo sport Silvio Paolucci una settimana tra gare e turismo il 26 marzo al porto turistico ci sarà anche una festa con tutti i 1500 atleti tante le gare in programma per il torneo delle regioni noi restiamo al calcio per parlare del Giulianova che accede ai quarti di Coppa Italia mercoledì giocherà Pomezia avanti nella Coppa Italia di eccellenza grazie al gol di Tozzi Borso poi pari del Vasto Girardi ma la squadra amministra bene il vantaggio dell'andata il Giulianova Alfadini nella gara di andata aveva vinto per 2 a 1 parliamo anche di Serie D Ravezzano con Cerone a Castelfidardo nel recupero che si disputerà domenica l'Aquila la resa dei conti per la formazione aquilana si parla ovviamente delle vicende societarie ma quella di ieri è stata una giornata importante per il calcio dilettantistico della nostra regione perché si sono disputati dei recuperi sia nel torneo di eccellenza che in quello di promozione vediamo dunque i risultati delle gare giocate ieri con il pareggio 1 a 1 tra Torrese Spoltore la vittoria in esterna delle penne per 3 a 1 a Montorio in promozione Ponte Vomano che ha battuto il Morrodoro per 1 a 0 0 a 0 tra Tossicia e Santomero vittoria per 4 a 0 dell'Ortona sul campo del Palombaro siamo al basket al Roseto con il coach di Paolo Antonio che avverte la squadra ci aspettano sette finali questo è il titolo di apertura di pagina 54 il campionato di Serie A2 ripartirà domenica con l'impegno casalingo contro Trieste il coach dice sarà decisiva la tenuta mentale e fisica ancora lavoro differenziato per l'Upusor e poi a centropagina tanti abruzzesi nelle giovani del Rital Rugby Romano Casiglio Di Marco Forcucci Capone e altri convocati nelle selezioni federali e domenica a Torrevecchia ci sarà una importante manifestazione invece di mountain bike è sempre domenica questa è sicuramente una manifestazione importante a Torre dei Passeri ci sarà la corsa della memoria tra sport e solidarietà manifestazione organizzata dalla WISP Abruzzo Molise vi anticipo che proprio con le nostre telecamere seguiremo questa manifestazione domenica a Torre dei Passeri per poi proporvi uno speciale proprio in onda sulla nostra rete lasciamo le pagine dello sport del centro per andare a vedere quelle del messaggero e poi in chiusura le prime pagine dei tre quotidiani sportivi nazionali e il Toro Pescara ora sto meglio lo dice Ugo Campagnaro buone sensazioni con Zeman si pensava solo alla fase offensiva con Epifani è diverso ma Campagnaro sarà assente nella gara con il Parma per un leggero problema fisico il sogno degli spareggi ma già si pensa al mercato Pescara che è ancora in lotta per un posto playoff anche se in ritardo in classifica e dal Pescara al Teramo dalla B alla Serie C sfatiamo il tabù Bonolis lo dice e lo chiede il difensore Sales dopo la vittoria di Padova siamo alla seconda pagina di sport del messaggero pari del Real Giuliano avanti tutta in Coppa gol del vantaggio ad Agnone con il vasto Girardi di Tozzi Borsoi nel prossimo turno i giallorossi affronteranno il Pomezia gara di andata mercoledì in terra laziale dal calcio al calcio a 5 a questa pone vola ai quarti della Coppa di divisione battendo la Lazio per 5 a 3 e poi i grandi eventi dell'Aquila ad aprire un match pro under 14 il Tommaso Fattori ospiterà le Zebre ed i Galesi dei Dragons e poi come ogni giovedì la mezza pagina che il messaggero dedica al calcio Wisp provinciale di Pescara Giamma e Smile sugli scudi le squadre che hanno fatto meglio nell'ultimo turno in Serie B Sestina e Pentagono giovedì i primi recuperi intanto anche nel campionato di Serie B Wisp dopo il Burian che aveva fatto rimandare tutte le partite e siamo alle prime pagine dei quotidiani nazionali sportivi partiamo dalla Gazzetta dello Sport i Leoni di Wembley Juve fantastica Tottenham K.O. per 2-1 Bianconoeri promossi ai quarti di Cempio soffrono e vanno sotto ma lottano e rinascono con le prodezze di Higuain e Di Bala Allegri faccio danni però rimedio ha detto il tecnico in alto Inter Napoli si guarda la sfida di campionato derby slovacco di Skriniar ed Amsic uno contro l'altro e poi Milan senti la carica dei 70.000 Europa League andata degli ottavi tutto esaurito questa sera a San Siro con 70.000 spettatori per Milan Arsenal Gattuso dice io pulcino rispetto a Wenger allenatore degli inglesi sulla panchina dell'Arsenal da oltre 20 anni dalla Gazzetta dello Sport ci spostiamo al Corriere dello Sport i Leoni di Wembley stesso titolo Champions Juve strepitosa Higuain e Di Bala ribaltano l'1-2 il Tottenham perde questa partita dunque la Juventus avanti vedete il rompe nei quarti di finale nella foto ci sono i due giocatori che hanno regalato il passaggio del turno ai bianconeri ovvero Higuain e Di Bala e poi Europa League l'omaggio di Rino anche qui le dichiarazioni del tecnico del Milan io un pulcino contro Wenger e poi la Lazio Ciro si fa largo forza Lazio prendi il volo perché ci sarà anche la sfida tra Lazio e Dinamo Kiev questa sera sempre per l'Europa League vi ricordo Milan Arsenal si giocherà alle 19 alle 21.05 Lazio Dinamo Kiev e poi Napoli nel futuro Sarri ha scelto Denis Suarez De Laurentiis pronto all'affondo per l'Ala che nel Barcellona poco spazio e poi la tragedia scomparsa di Davide Astori Firenze in fila per Davide lunghe code la camera dente questa mattina i funerali nella chiesa di Santa Croce a Firenze chiudiamo con tutto sport Leoni Juve nei quarti battuto il Tottenham per 2 a 1 noi siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 appuntamento che tornerà domani come sempre puntuale alle 8 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito auguri oggi 8 marzo a tutte le donne in visione per quanto riguarda il prossimo appuntamento informativo della giornata come sempre vi rimando alle 14 per la prima edizione del TG6 buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti.